un saluto a tutti da snowkills e ben ritrovati in un nuovo video oggi andremo a vedere a confronto castle clash e clash of clans due giochi che sono simili anche se per molte cose profondamente diversi e siccome da un po di tempo iniziò a giocare a clash of clans o dice di fare questo video dove volevo andargli un po a confrontare a paragonare a vedere un po quali sono i punti di forza e debolezza di entrambi i giochi e quale magari andare quale funzione magari mi piacerebbe dell'uno nell'altro gioco inizierei come prima cosa con il dire che entrambi i giochi sono dei giochi pay to win seppur castle clash è un gioco veramente interamente pay to win ce ne possiamo acquistare davvero tutto con i soldi mentre in clash of clans arrivati a un certo punto dovremmo metterci magari anche un pizzico di abilità per riuscire ad arrivare effettivamente primi in classifica mentre in linea teorica in castle clash se avessimo infiniti soldi da spendere potremmo acquistare tutte le esperienze e rollare infinitamente volte eroi fino a trovarli tutti comprare tutti i frammenti insomma per poter avere tutti quanti gli eroi al livello massimo soltanto pagando mentre questo risultato non possiamo averlo in clash of clans questa diciamo è la prima differenza inizierei col vedere i pro di castle clash allora i pro di castle clash fondamentalmente sono è uno principalmente ed è il motivo per il quale ho iniziato a giocarci cioè sono gli eroi diciamo che gli eroi in castle clash sono ogni eroi come se fosse se vogliamo semplificarla un tipo intero di truppa di clash of clans gli eroi sono tantissimi sono sempre di più e questa cosa appena ho preso un android mi ha intrippato per quanto per quanto castle clash al momento non mi faccia più come quando iniziato e su questo dedicherò un video a parte comunque tutti quanti questi eroi sono davvero fighi e il poterli aggiustare strategicamente nelle varie modalità è comunque divertente e sono sempre di più quindi questo è sicuramente un punto di forza di questo gioco perché gli eroi sono veramente tutti quanti ben curati ben fatti e con skill tutte molto diverse e strane un altro se vogliamo punto a favore di questo gioco è che ogni giorno viene richiesto molto di giocare cioè ci sono tre missioni al giorno se siamo puntuali dove dovremmo completare determinate modalità poi abbiamo anche regno perduto varie ondate dungeon attacchi e quant'altro quindi sono davvero tantissime modalità diverse che possiamo giocare all'interno del gioco per occupare il tempo quindi questo è sicuramente un altro punto a favore rispetto a clash of clans ma per quanto riguarda le diciamo le cose positive di questo gioco purtroppo ahimè diciamo ci fermiamo a questo perché perché a differenza di clash of clans dove con il tempo noi siamo sicuri di raggiungere un determinato risultato qui ad esempio io adesso sono in una fase avanzata del gioco e mi mancano pochissimi eroi io non ho alcun modo di prendere un determinato eroe semplicemente giocando perché dovrei trovarlo semplicemente a caso a culo forse anche mai rollando gemme a meno che non metta pacchi di soldi ragazzi pacchi di soldi davvero tanti soldi non pochi perché in questo gioco i soldi hanno un valore abbastanza frivolo 75 euro per loro sono bruscolini quindi ci vorrebbero abbastanza soldi per riuscire a stare al passo e questa è una cosa effettivamente brutta e che in questo ultimo periodo dato che non trovo un eroe nuovo da un mese e mezzo mi ha abbastanza depresso ed è uno dei fattori che sta un po contribuendo a farmi giocare un pochettino meno a castle clash un altro un un altro difetto davvero bruttissimo è che a distanza di parecchio tempo a distanza di parecchi aggiornamenti dall'uscita della modalità guerra tra gilde tuttora noi non possiamo vederci il replay di praticamente di chi ci attacca noi non lo possiamo vedere e nemmeno guardare il replay dell'attacco che noi abbiamo fatto quindi non c'è il ben che minimo studio della situazione e inoltre durante gli attacchi per esempio se noi andiamo a prendere un normale raid come potrebbe essere un attacco di guerra tra gilde noi non possiamo effettivamente sapere questi eroi quali talenti abbiano su praticamente perché non possiamo effettivamente saperlo quindi che cosa capita spesso anche ultimamente in guerra che noi ci ritroviamo magari un annubis che ci fa fuori tutto il nostro team in un attacco e l'attacco successivo quella annubis viene spianato da un eroe random entrambi evo 2 però uno era senza talento l'aveva appena trovato l'altro invece aveva il super talento a 8 però noi questa cosa da prima non la possiamo sapere non potendo rivedere neanche il replay tutto ciò si somma in qualcosa leva un po di strategia e sicuramente tanto divertimento e analisi di quello che si sta facendo all'interno dell'attacco poi in questo gioco abbiamo un'altra cosa diciamo verso le ultime che sono è un sia un pro che un contro questa cosa cioè i continui pressoché mensili aggiornamenti che vengono fatti praticamente ogni volta viene aggiunto un nuovo eroe questo può essere un pro perché mi rendo conto che è un nuovo giocatore a chi inizia a giocare adesso ha davanti a sé un percorso di crescita e la possibilità di trovare molti eroi eroi diversi quindi inizialmente se ne avranno pochi e tendenzialmente si avranno contro avversari con eroi diversi dai nostri quindi ci si divertirà a capire che cosa succede non sono tutti a livello massimo eccetera quindi se si è giocatori all'inizio si sta crescendo sicuramente i continui aggiornamenti portano un ampliamento sempre maggiore del gioco e quindi a un continuo inseguire diciamo avere tanti eroi eccetera per quanto averne così tanti ai livelli bassi immagino siano comunque difficili da portare su e non so esattamente come avere così tanti eroi a livelli bassi quando ne trovi tre quattro nuovi ed exp poco sinceramente non lo so mentre questo come per chi è per esempio nella mia situazione a un certo livello di potere con un certo numero di eroi per esempio a me mancano solamente quattro che è possibile trovare nel rolling beh in quel caso ogni nuovo aggiornamento equivale equivarrebbe solamente a mettere soldi per riuscire a prendere il nuovo eroe perché tutti gli altri praticamente si hanno già si hanno già a livello massimo vediamo che io comunque in classifica sono 7 centesimo non è che sono nella top 100 che ci sono tanti giocatori anche più su o poco più giù di me che si troveranno sicuramente la mia stessa situazione con eroi praticamente quasi tutti a livello 200 seconda evoluzione in attesa praticamente ogni volta di beccare il nuovo eroe per cercare di dare un piccolo cambiamento e quindi questo per chi ha un livello avanzato è un po un gioco finito dove ogni volta di aggiungere un piccolo pezzo che devi pagare per avere non è poi così divertente è proprio questo il motivo per cui non ci sto giocando più tanto come detto prima e ci farò anche come detto prima un video a parte su questa cosa è in ultimo ragazzi il difetto più grande come anche accettato accennato prima è che davvero troppo pay to win e l'unico modo per risolvere a questo davvero risolvere a questo problema sarebbe solamente mettere tutti gli eroi frammentabili e frammenti nei raid in modo tale che tu effettivamente giocando puoi ambire ad avere più raid più avrai come per esempio le spadine league of legend tu sai che ne vinci 100 a game te ne servono 7000 sai che dovrai farti 70 partite mentre qui questa cosa non c'è è davvero un peccato non la faranno mai quindi il gioco sarà diciamo sempre questo tutt'al più metteranno eroi a prezzi bassi ma chissà e questo diciamo è tutto quello che è riassunto nei pro e contro di castle clash in confronto a clash of clans che andiamo subito a vedere in clash of clans invece la situazione è un po diversa perché non abbiamo gli eroi ma abbiamo truppe truppe che dopo averle un grandissimo difetto ragazzi lo dico subito un grandissimo di fatti questo gioco è che quando andiamo ad attaccare vengono distrutte perdiamo anche le truppe che sopravvivono a quell'attacco cioè noi finiamo e le truppe le perdiamo lo stesso questa cosa veramente un po è strana però vabbè va ancora così quindi immagino abbia un senso e questo secondo me è un difetto un altro difetto è che a differenza di castor clash a poche modalità cioè praticamente noi possiamo andare a raidare oro e mana in più ci sarà anche il mana nero appena si adesso fra due ore si finisce a portare sul centro del villaggio insomma abbiamo poche risorse da raidare con quelle risorse portare su le strutture l'unica cosa che abbiamo da fare oltre questi attacchi sono le war di cui parleremo tra poco comunque quindi se siete giocatori che diciamo hanno tanta voglia di mettere di cambiare modalità a differenza di castor clash che vi propone diverse modalità quindi tutti gli eroi hanno le loro funzioni chi è meglio in una chi è meglio in un'altra qui fondamentalmente siamo bloccati solo a un tipo di attacco cioè quel tipo di attacco standard e basta come un raid normale diciamo sempre e soltanto quindi questo se vogliamo è un piccolo difetto mentre i pro quali sono il primo è che si ha la certezza di concludere il gioco e arrivare ad avere tutto quello che si può avere nel gioco semplicemente lasciando trascorrere del tempo noi portiamo sulle strutture le strutture salgono ci vorrà sempre più tempo ci vorranno sempre più risorse ma noi aspettando quel tempo e raccogliendo quelle risorse saremo sicuri che fra tre anni ad esempio di gioco free to play o quattro anni di gioco free to play noi avremo tutte le strutture maxate di questo siamo certi a differenza di castor clash dove ogni mese esce un nuovo eroe noi non sapremo mai diciamo dove andrà a finire quanti ce ne saranno chi inizia fra tre anni potenzialmente potrebbe non avere mai tutti gli eroi mentre qui sappiamo che dopo un tot di tempo abbiamo raggiunto sicuramente quel livello poi sta a noi con le nostre truppe andare a scontrarci contro gli altri in classifica e lì rientra diciamo l'abilità che viene richiesta nel gioco di selezionare il giusto tipo di truppa in base alle difese difese che però sono analizzabili perché noi le vediamo sappiamo più o meno il loro livello e la loro potenza anche quella delle nostre truppe e quindi possiamo farci un'idea di ciò che ci aspetta a differenza di castor clash dove noi non sappiamo i talenti e gli emblemi degli eroi che andiamo a attaccare quindi è sempre un enigma una cosa bellissima un'altra cosa bellissima di questo gioco sono ragazzi i replay tutto il replayabile ci sono il registro difese possiamo condividere i replay per farli vedere agli altri possiamo sfidare i nostri compagni nella chat possiamo chiedergli di attaccarci il villaggio quindi cosa divertentissima e si possono vedere tutti gli attacchi tutte le difese anche della nuova modalità ci sta negli attacchi il registro battaglia e si può vedere sempre il replay di quello sia che voi fate sia di quello che vi fanno in modo tale da poter effettivamente migliorare la vostra conoscenza del gioco di quello che una truppa può fare e quindi anche un divertimento crescente con il passare del tempo e l'aumentare dell'esperienza un'altra cosa simpatica che sono stati capaci di fare quelli della supercell su questo gioco è stato quello di creare questa nuova modalità questo secondo mondo quando il gioco stava morendo perché tutti quanti appunto avevano raggiunto il livello massimo avevano tutto si erano un po stufati di giocare hanno creato effettivamente un nuovo mondo con delle regole tutte diverse intrippante quanto il primo e hanno veramente colto nel segno per quanto riguarda il dare un'espansione ma una vera espansione che promette di aspettare altro tempo per poter avere tutto al massimo e questa è stata una cosa davvero molto molto figa che apprezzo da subito infatti appena uscita questa modalità ho iniziato a giocare a questo gioco proprio perché mi ha mi ha dato fiducia a questa cosa mi è piaciuto molto come hanno interpretato l'aver finito un gioco e il volerne creare un altro un due non cercare sempre di ampliare una torta che è già fatta è già quella diciamo altra cosa fighissima e strategica a mio parere è il fatto che le guerre in questo gioco sono gestiti in una maniera totalmente diversa da quella di castle clash cioè qui possiamo fare è vero ogni due giorni c'è guerra però a differenza di castle clash qui possiamo attaccare solo due volte e non si può attaccare due volte lo stesso giocatore cioè quando noi scendiamo la prima truppa è fatta non si può più tornare indietro l'attacco sarà solamente quello è solamente una volta 10 contro 10 chi non può partecipare alla war perché ha impegni o altre cose può togliersi dalla war e dire io non partecipo in modo tale da lasciare spazio a chi effettivamente può giocare e ha voglia di farlo questo ragazzi è una cosa fighissima fatta davvero benissimo tutto ovviamente inutile dirlo replayabile si può vedere si possono vedere gli attacchi che ci hanno fatto a noi si può vedere l'attacco che noi abbiamo fatto a loro tutto quanto può essere sempre rivisto e condiviso sia da noi che dai nostri compagni gilda quindi per questa cosa è fatta davvero ragazzi benissimo e vi fa anche venire voglia di capire cosa state facendo e non ve lo dimenticate cioè questo come mi ha battuto oppure io come ho fatto a battere con le determinate difese ve lo potete andare a rivedere in conclusione ragazzi che cosa dire entrambi i giochi sono molto molto carini sono giochi android quindi fatti per essere portati avanti nel tempo se io dovessi consigliare a qualcuno quale dei due iniziare da zero direi che se vi piace spendere nei giochi forse castor clash può darvi parecchie soddisfazioni se scioppate ogni tanto perché vi ritroverete comunque ad avere eroi non farete molta fatica a portarli avanti potete comprare slot in magazzino insomma avere un gioco che spendendo è ben fatto mentre qui se siete free to play probabilmente clash of clans è un gioco che si lascia giocare volentieri se non siete molto diciamo psicopatici nel voler fare mille cose ma volete un gioco che quelle due volte al giorno vi vi lascia giocare un po questo è davvero l'ideale forse per un free to play magari è più indicato per quanto entrambi i giochi ragazzi se ci spendete avete indubbiamente un vantaggio se non spendete avete indubbiamente uno svantaggio questo svantaggio in castor clash è parecchio più marcato se vogliamo dire così quindi non c'è altro per questo video è tutto vi invito a lasciare un bel like e un commento fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate se giocate a entrambi i giochi o soltanto a uno dei due che devi siete fatta che devi siete fatti dopo questo video io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video ciao